Gianmarco Biaggi, CEO della Vection Technology, è qui al convegno per portare un contributo diretto sull'innovazione tecnologica. Vection Technology è una multinazionale che si occupa di innovazione tecnologica e di sistemi di digitalizzazione, ma non solo. In questo ambito c'è un progetto preciso? Sì, Vection ha un progetto preciso, quello di portare il mondo della sanità insieme ad altri mondi, grazie alle tecnologie immersive, in un mondo di efficientamento, mettendo il paziente al centro, fornendo dei servizi innovativi, partendo dai sistemi che esistono già, ma dando dei valori aggiunti che possono essere ottenuti soltanto grazie alle tecnologie immersive, di realtà virtuale, di realtà aumentata, assistenza da remoto. Il paziente al centro significa che Vection ha immaginato un sistema olistico che digitalizza tutto il sistema del valore di una struttura ospedaliera pubblico-privata, tale per cui il mondo del paziente, il mondo di chi assiste il paziente, il mondo dei medici, infermieri, quindi dei dipendenti, venga valorizzato, potenziato in un'epoca tecnologica dove siamo in un momento di grande snodo tecnologico. Quindi è un'epoca dove la tecnologia avanzata, immersiva, abilitante sarà al servizio dell'uomo e quindi di tutto ciò che è benessere, creazione del tempo, creazione del valore e creazione del servizio.